Sì, siamo all'Alcatraz di 4-5 anni fa, più o meno. Sì, esatto, più o meno. E dopo che ci fomos sentiti su MySpace, abbiamo andato a becchiamoci, vediamo cosa fare. E ci volevamo beccare appunto all'hipop TV dell'Alcatraz. Ok. E poi cercando di scavalcare, non siamo riusciti ad entrare, e ci siamo beccati poi al McDonald's, così a parlare, insomma, le prime nove. Ah, quindi il party non l'avete visto? No. Ah, fantastico. Ok. Ok. E niente, ci siamo andati a questo McDonald's a mangiare panini, parlare di musica, insomma, e affrontare un po' quello che poi è stato... Forse è stato meglio così. Certo, è stato meglio non entrare. È stato giusto, è stato troppo caos per parlare. Esatto. Magari ci stavamo antipatici. Esatto. Vabbè, tu mi sei antipatico. Tu mi sei antipatico tuttora. Non posso.